Ciao a tutti, sono GiulianoChipumo24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Allora ragazzi, oggi andiamo avanti con Matt. Intanto, finalmente si è aggiornata la copertina perché hanno aggiornato il gioco. In realtà so che già si era aggiornata su Play Store, però non so perché nel gioco della Homo c'era ancora questa immagine, l'immagine vecchia. Allora, piccolo riepilogo di cose successe negli scorsi episodi. Alla fine, dopo tutto quel disastro, avevamo fatto pace e finalmente con Matt. Avevamo anche accettato di far parte di quel videoclip. Nello scorso episodio, mi pare fosse l'ultimo che abbiamo fatto, sì, avevamo ricevuto un sacco di messaggi e Matt ci aveva invitato, ah no, sì, a casa sua. E avevamo anche ricevuto diversi messaggi da Daryl, avevamo un po' provato a flottare con entrambi. E adesso siamo al bar solito con Lisa e gli stiamo parlando di che cosa è accaduto. Spero ci sia più energia, ma ne dubito, forse scende più lentamente come è successo prima, dato che molti si sono lamentati, però non credo. Parlando di robe grosse, indovina chi mi ha invitato a casa sua? Allora, se erano oltre 100 punti di energia, dopo un messaggio, quanti diventano? Tanto non si carica, vediamo. 290. Non lo so, sapete, ma mi sa di no, sempre... No, credo che non hanno migliorato il problema. Fammi indovinare, il fratello con le Lamborghini? Daryl, no? Oh, ma ti muovi? No, era Matt, no? Sì, credo di sì. Ci voleva invitare anche Daryl, in realtà, però noi abbiamo accettato a Matt. Oh, ma non si carica? Sarà che c'è poca connessione? No, è meglio. Sì, la notte scu... Ma cosa? No, o meglio. Sì, la notte scorsa, ma parlavo di Matt. Sì, infatti. Allora sì, era giusto come immaginavo. Ah, come rido bene io, eh? Ti chiedo perdono. Presto avrò bisogno di un'agenda per gestire i tuoi appuntamenti con ogni fratello. Lisa, non è divertente. Sì, ma povera, ti sta incoraggiando, cioè... No, ok. Ok, ok, ero rimasta a Matt arrabbiata per la proposta del videoclip. Sì, stai un po' indietro, cara Lisa. Giusto un tantino. Avevi ragione, su Matt. Avrei dovuto incontrare il rapper la notte scorsa. Avrei dovuto incontrare il rapper la notte scorsa. Avrei dovuto incontrare l'amico di Daryl la notte scorsa. Daryl ha organizzato una festa a casa sua, una villa incredibile. Ah, è vero, ma lei non lo sa tutte ste cose. Se... Su... Su... Ragumanissimo. Se il tipo può permettersi una macchina che costa cinque volte il mio appartamento, immagino possa permettersi anche una villa lussuosa. In effetti. Già, comunque non ho incontrato l'amico. Lo ammazzo questo cartello e ve lo giuro. Poi ho già votato, vi faccio vedere. Cinque stelle, guardate. No, perché non è possibile. Io l'ho votato il gioco. Adesso arriva la mia ribellione. Non so se si dice così. Però l'ho votato, guardate. Matt. Vi leggo anche la mia descrizione, la mia recensione. Ma tanto non servirà niente, perché questo scemi di gioco continuerà a farmi vedere questa cosa. Com'è che ci mette così tanto a caricarsi? Forse non ve lo posso far vedere perché non c'è connessione. Però il gioco va, perciò ce ne sarà poca. Vabbè, niente, non si carica. Io che mi stavo tipo ribellando, ma niente. Comunque ve lo giuro, io ho votato. Ma una volta che c'è più connessione ve lo faccio vedere. Già, comunque non ho incontrato l'amico. Era troppo occupato, ma più importante. Ci siamo visti con Matt. E... Ci siamo quasi baciati. Ah, ma lei non lo sapeva. Con chi? Daryl o Matt? Adesso non si sa neanche più, guarda. Ma... Con Matt, ovviamente. Stai ascoltando o no? Non è semplice seguirti. Ho detto giusto? Non è semplice seguirti. Sei andata alla festa di Daryl, ma lì hai incontrato Matt. Quindi invece di flortare con Daryl, hai flirtato con lui. Nel fortempo avresti dovuto incontrare un rapper che non l'hai visto. Giusto? Beh, sì. Sì, giusto. Se non fosse che Matt non è stato invitato, sono io che l'ho portato con me. E Daryl non è stato molto felice. Le cose si sono scaldate tra loro. Ma fortunatamente Daryl si è dovuto allontanare un momento. Ah, avrà bisogno di un drink. Sì, però ci fa monotte, sì, qua... Ok. Lisa fa un gesto al cameriere che prende il suo ordine con un gran sorriso. Il signore laggiù vorrebbe offrire entrambe un drink. Ah, fosse quello che diceva lei nella scorsa puntata. Diceva, eh, quello là ci sta fissando. Lisa si volta e sorride al ragazzo. Lo posso... Io posso solo ruotare gli occhi. Ah, ma è vero, era un po' come noi, che lei era innamorata sia di quello e sia di quello là col suo fidanzato, credo. Non chiamarlo qui. Lisa. Lisa. Lista? Lista, smettila. Bel nome, Lista. Inizierà a credere chissà cosa. Lista. Cosa? Sto solo stabilendo un contatto visivo. Eh, sì, dai, guardiamo il video. Ok. Sì, certo, non voglio che si avvicini. Perché? Poveretto, è totalmente fuori strada. Facciamoci solo offrire un drink per ora. Ma... Dai, però. Ti muovi. Bene, grazie. Ridiamo ancora di più. A volte penso che sia davvero fuori di testa. A volte, eh. Quindi è quasi baciato Matt. Lui ha cercato di baciarmi. Esatto. In realtà è stato lui, mi pare. Non mi ricordo. Vabbè, sì, diamo la colpa a noi. Vabbè, non è la colpa. In effetti, mi pare che sia stato così. No, lui ha provato a baciare me. Questo è un buon segno. E perché? Tu no? Vabbè, noi siamo timida, sapete com'è. Siamo stati interrotti e abbiamo passato il resto della serata a sentirci molto imbarazzati. Però non è giusto. Quando saluteranno sto bacio? Io che l'altra volta ero troppo felice, avevo pure la gola. Rovinata, la voce tutta arauca. E alla fine non è successo niente. È al lavoro oggi? È quasi finita l'energia. Però forse dura di più, non lo so. Molto strano. Matt si è allontanato un po'. Molto strano. È stato davvero strano. Ho avuto l'impressione che Matt fosse davvero a disagio. Comunque qua c'è questa nuova cosa che posso vedere la pubblicità per più energia. Ed è utile. Oggi no perché il video sta durando abbastanza. Che scemo. Dillo a me. Quello che mi preoccupa però è che ha voluto vedere Gabriele per chiedergli un cambio. Spero non voglia cambiare ufficio. Ah è vero, mi ero scordato sto pezzo. Sì, ha chiesto questo cambio. Ma è un po' strano, guarda. No, che stai pensando? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Le parole di Lisa mi le assicurano. Ha ragione. Il colloquio con Gabriele difficilmente avrà avuto qualcosa a che fare con me. Poi perché avrebbe dovuto? Scusa, sono amici. Non è che... Poi si erano parlati prima del cambio. Non è che non sono più amici. Solo per un bacio che alla fine neanche è avvenuto. E come vanno le cose con Daryl? Mi piace. È insistente. È insistente. No, perché a lei piace Matt. Cioè io non voglio che si pianza con Daryl. Si deve fidanzare con Matt, dai. Vabbè, è finita l'energia. In effetti sta durando abbastanza questo video. Comunque niente. Ogni episodio è una suspense. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo, noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.